seduta seduta tir vino, vieni vai lì e ti fermi lì io faccio la forza 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 io ho trattato i sistemi ieri di te, un po' che vieni, un glasco, un po' di nascita. Ti dico con l'elito, è solo che poi lo vengono. Sai cosa succede? Un giorno viene il giorno che dice se non ti porta via, non ti porta nessuno, ci sono handicappato anche qui. Viene Romano? Percivalo a poco. Un po' di K solo. Mesmi lo faccio, così non ti ha? Mi dicevo. , maggiore. Anche voi cattolapurti. Fai una pi Последna panza, un po' di terza. Questa, maggiore. Pocco, maggiore. Non, 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 non. Si, maggiore. Lascia stare lì, non sapevo che usciva, la va a prendere la sua parte perché lì fa fatica a passare, ora si vuole trovare il passo, vedi? Adesso ma che c'è passato? Andava a cercarla più bene, però andava bene perché dobbiamo rafforzarla, capito? Lei la sente lì, vedi? Non ti preoccupare, vediamo dove va. Adesso è quella che si attiva, se dentro lì, adesso ti devi fare un tuo cappello lì, vedi? Hai visto? Zittolina è ferma, zittolina è ferma. Apri Sabrina, apri piano piano, apri, ok, fammela abbaiare o la confermi? Supercagnone! Conferma! Ok, ancora, 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 tienila lì, non la farà andare via. Conferma e vieni fuori con lei Sabrina, conferma, vieni fuori e porta il cane qui da lì. Non la farà allontanare Sabrina, così, non la farà allontanare. Guardi, 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 guardi. Stoazeerstino. Bravissima, portala da lì. Ok, ancora, 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 non la farà allontanare, non la farà allontanare. Mi vuoi menare? Mi tocca andare sulla sedia. Non ti preoccupare. Se ti casca sopra le più volte che fai. Adesso vuota la porta e poi ci gioca la porteria. Adesso fermati e te la fai abbaiare. Quattissimi. 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 E' il piatto di l'oltre. L'ora che vi conosciamo che c'erano gli uomini che io mi fodo il lano. E' l'assenza di schilo. E avevamo 14 anni. Facciamo un pochino. Ok. Ok. Perfetto. Porto l'allino e poi la porteria. buona. Buona carita. Buona carita. Buona carita. Buona carita. Buona carita. Tu te er張? Se hai un pochino. 5,5 cent,5 di euro. Sgo la? Cazzo è 4,5 yard. Si metti su youtube eh! E' su i porn! E' su i porn! E' su i porn! Siete un bel trio, sì. Io faccio la donna, eh. Perché non vuol fare fatica? No. Io faccio la donna. Perché sai del sexy?